E' viva! E' viva l'aria! Maestro, 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 maestro. Sì! 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 E qui ragazza! Sì! 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 no 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 Oh E' un bel giro E' un bel giro E' un bel giro E' un bel giro Ho un bel giro Si è spettacolo Si è spettacolo il sonico quello del tenista non chiamo niente a mangiare, io vedo che seguiamo a mangiare forse non 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 bravo 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 Jonathan kl ah che bellezza eh che toglie perché non ravi fray guarda, guarda, prima non quella più fegola guarda un'altra guarda un donio c'è una toccio c'è una toccio c'è una toccio e mi piace per Bruno testi 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 Hop, 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 hop